Siamo allo sport e calcio, il mercato del Pescara, Sebastiani e Delicarri sono a Milano per le trattative di fine sessione. Ricordiamo lo stop domani alle ore 20, subito dopo lo speciale su Rete 8. Gli obiettivi sicuramente una mezzala, ci sono delle valutazioni invece in corso sull'opportunità di ingaggiare anche un difensore, pareva scontato l'arrivo di un centrale, adesso non lo è più, in questo momento ci sono tre potenziali titolari, Brosco, Mesic e Pellacani e il giovane Staver. Nel mirino di Delicarri, Davide Di Pescuale, abruzzese di Sant'Omero, ex Foggia, allenato due stagioni orsono da Zeman, è cresciuto delle giovanili bianchezzurre, riflessioni in corso su Di Pascuale in procinto di risolvere il contratto con la neopromosso Arezzo, c'è anche la Vicenza, per la mezzala resiste la candidatura della 34enne Fabio Scarsella, in uscita dalla Vicenza, sempre viva la pista a Franchini, niente da fare per attribuzzi della Crotone e Battistella del Modena, succurcio attenzione a cui il Pescara pare interessato, l'agente dell'attaccante Vincenzo Pisacani, da noi contattato, ha negato la possibilità del trasferimento. In uscita è quasi fatta per Belloni al notaresco, in realtà servirebbe anche un play adatto al gioco di Zeman, ovvero schematico, capace di interdire, soprattutto in uscita palla, di verticalizzare immediatamente col Boemo, insomma il play non deve portare palla, squizzato un buonissimo calciatore, ma con caratteristiche da mezzala, grazie agli insegnamenti di Zeman potrà diventare sicuramente un ottimo regista, ma servirà tempo, sarebbe insomma molto meglio un play con squizzato interno. Le notizie dal campo, fuori Tommasini e Cangiano, ricordiamo sabato le 20.45 il debutto in campionato contro la Juve Under 23 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, dicevamo fuori Tommasini e Cangiano per infortunio, sta molto meglio Edoardo Vergani che è convocabile, staremo a vedere dopo la seduta di rifinitura in programma domani mattina, in attacco probabile tridente Merola, Cuppone a Cornero, a centrocampo Aloy vertice basso, squizzato e Tuniov mezziali, in difesa Pellacani insidia Brosco, conferenza pregara di Zeman domani alle 12.30 l'EC Hotel di Città Sant'Angelo.